Il tuo consulente Agrometeo ti dà il benvenuto su Angro Notizie. Il tempo previsto tra il 31 dicembre e l'8 di gennaio. La prima bordata è di tempo invernale, con piogge abbondanti al centro-sud e venti intensi su tutti i nostri mari, ma anche freddo e neve sul nord Italia sembra essersi esaurita. Ma in arrivo, a partire dal 1 di gennaio e fino al 7-8 di gennaio, un'altra bordata tipicamente invernale con le stesse caratteristiche, ossia piogge notevoli soprattutto sulle regioni tirreniche, sulle regioni di nord-est e sull'est della Lombardia, ma piogge comunque su tutta l'Italia in questi 8 giorni, pioverà quasi tutti i giorni, ma attenzione, anche nevicate sulle Alpi fino a quote molto basse, l'1 e il 2, il 5, il 6 e il 7 e l'8, navicate anche in pianura sul Piemonte e sulla Lombardia. Insomma, la fotocopia dell'ondata di freddo appena passata. Il freddo interesserà essenzialmente al nord, un po' anche il centro, ventoso soprattutto l'1 e il 2 di gennaio su tutti i nostri mari. E attenzione però che tra il 7 e l'8 di gennaio un evento specifico sul circolo polare che i meteorologi chiamano Strat Warming, già delinea l'uscita del vortice polare dalla sua sede con due nuclei di aria fredda, uno che già tra il 7 e l'8 raggiungerà l'Islanda, aria fredda polare ovviamente, e un altro che dalla Siberia raggiungerà il Baltico, la Danimarca e il nord della Germania. Questi due nuclei dovrebbero fondersi nel nucleo nucleogenido e poi interessare prima del 15 ma dopo il 10 di gennaio probabilmente anche l'Italia, con sviluppi che oggi ancora non siamo in grado di delineare né dettagli. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.